Ancora una prova di forza, l'ennesima di un inizio di stagione che mette la palla canestro Ruvo tra le candidate al salto in a due. Nella settima giornata del campionato di Serie B nazionale di palla canestro, i Biancazzurri centrano la quarta vittoria di fila, mandando al tappeto una squadra maidoma come la Power Basket Salerno con il risultato di 87 a 79. Coach Raiola può sorridere. Devo dire bravi ragazzi che hanno tenuto perché poi queste partite che magari se tra il periodo è obbligato a vincere perché stai giocando in casa, naturalmente la pressione può fare brutti scherzi ma abbiamo già dimostrato in passato di saperla gestire e di portare a casa una vittoria comunque sofferta perché come ho detto prima abbiamo giocato contro un'ottima squadra però l'importante era vincere. Nonostante le sei vittorie su sette e i dodici punti raccimolati fino a questo momento, la palla canestro Ruvo resta ancorata al secondo posto in compagnia della Gemma Montecatini. Il merito è di Roseto, squadra ancora in battuta, che nell'ultimo turno ha strapazzato la cestistica Sansevero con il risultato di 85 a 64. Niente da fare per gli uomini di Coach Bernardi, in partita solo nei primi due quarti. Difficile fare meglio al cospetto della capolista. Sono contento della partita che abbiamo fatto perché noi siamo veramente giovani, 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 avevamo tantissimi ragazzi la prima esperienza in questo campionato e quindi passiamo attraverso il lavoro e il miglioramento, questa sera abbiamo fatto soprattutto i primi due quarti, eravamo molto carichi e molto concentrati sul piano della partita poi abbiamo sbagliato qualche cosa però siamo riusciti a portare avanti il nostro disegno tattico.